Mattia Pisono 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 Grazie a tutti. 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 Veramente ci ha commosso tutti. Noi eravamo dietro davanti allo schermo che praticamente con le lacrime. Complimenti per questa condivisione di questo grande amore su questa passerella. Veramente hai trasmesso tanto amore e hai fatto capire che cos'è la vita. Tutto parte da quando siamo piccoli. Tutto parte da quello che ci viene insegnato. Tutto parte da quello che poi un domani diventeremo. E tu hai voluto spiegare questo amore di questa grande figlia, Michelle, a quale va veramente un applauso. L'hai saputo raccontare in una maniera veramente emozionante e soprattutto hai toccato il tema dell'amore di una bambina con una delicatezza unica come solo un padre può fare. Complimenti, complimenti veramente. Chi mi conosce bene non sa quanto non sono bravo con le parole, ma forse poco. Non sapete quanti sacrifici ci sono stati fatti. Qualcuno può immaginare perché è dello stesso ambito. Ci sono state persone che hanno sacrificato la loro vita per essere qui stasera. Parlo della mia project manager, Melania Mattei, di una mia dipendente conosciuta da poco, che forse i meriti vanno tutti a lei e poco a me. Io penso che la vera passerella oggi la debba fare lei e non io. Perché io sono anche questo. Do i giusti meriti a chi ne ha più di me in questo periodo. Tutto grazie a lei. Non ho da dirvi tanto perché penso che quello che avevo da dirvi l'ho dimostrato. Spero che vi sia piaciuto. E niente ragazzi, non so più che dire. Allora innanzitutto Mattia questa sera ha lasciato veramente un messaggio meraviglioso su questo palcoscenico. Un messaggio che alla base di tutto c'è l'amore. Nella vita non si può fare nulla se non c'è amore, se non si porta passione dentro. Io penso che laddove c'è passione, amore nell'anima c'è positività. E quindi stasera abbiamo dato una dimostrazione di grande positività soprattutto per un futuro migliore. Grazie. Voglio ringraziare un ospite d'eccezione che ha fatto i salti mortali per essere qui, Ela Cipriani. Che penso è una persona fantastica al di là del personaggio perché siamo amici nella vita. Quindi è una persona fantastica. E quindi se non ha cavalcato questa passerella è perché lei ha voluto dare importanza a me che sono un amico. Quindi volevo ringraziarla perché è giusto che sia così. E voglio dirvi un'ultima cosa. Questo spettacolo e questo successo lo dedico a chi non ha mai creduto in me. Complimenti. Salutiamo Mattia Pisano. Complimenti. Un meraviglioso défilé, un grande brand, una grande sartoria. E voglio aggiungere che è tra i più giovani ad aver vinto la forbice d'oro. Uno stile veramente seducente. Non a caso questa sera mi sono dovuta adattare, ma solitamente sono un po' più sopra, ve lo assicuro. Ancora applausi per Mattia Pisano. Applausi.